Donne vietato morire, il nome del corso di autodifesa ideato e organizzato da Valentina Capizzi, partito questa mattina presso la palestra Etna Country Style di Gravina di Catania. È un corso contro la violenza, è un corso di prevenzione per aggressioni future. Tutte le donne gratuitamente sono benvenute a questo corso che vogliamo espandere in tutto il territorio catanese. Il sogno più grande sarebbe quello di avere un corso di difesa personale all'interno delle scuole dedicare un'ora di educazione fisica per bambini e bambine per potersi difendere da un'aggressione o da bullismo. Voglio solo sottolineare che non è un corso che mira a combattere con l'aggressione ma solo a divincolarsi e scappare per chiamare le forze dell'ordine. Questo è il messaggio che vogliamo mandare, la prevenzione contro un'aggressione futura. Accanto alle donne il sindaco di Gravina, Massimiliano Giammusso. C'è il patrocino del comune di Gravina su questa bellissima idea che hanno avuto Valentina Capizzi, Alessandro Bifere e altri amici adottati qui dall'Etna Country Style di Gravina di Catania con il maestro Giuseppe Scaccianoce, con Pina Randazzo. Gli altri ragazzi che si mettono sempre a disposizione quando si tratta di Gravina e che hanno tra l'altro la possibilità di rappresentare spesso e volentieri il nome della nostra città anche all'estero rappresentando un'eccellenza del nostro territorio. E abbracciamo a pieno quello che è la difesa personale femminile perché è diventato un fenomeno che comunque ha bisogno di essere attenzionato e noi non possiamo fare altro che dare il nostro supporto a questa valida causa. Da donna che messaggio vuole mandare? Dobbiamo essere pronte a reagire e forti soprattutto nel fronteggiare e nel saperci difendere. Questo è importantissimo. Vi presento l'insegnante Denise Di Stefano, presidente dell'Accademia Italiana di Karate Kiempokai che terrà il corso e si concentrerà su due aspetti, quello psicologico ed emotivo come affrontare la paura in caso di aggressione e quello tecnico e pratico cioè darà gli strumenti basici e elementari a queste donne per potersi difendere in modo consapevole e tecnico in caso di aggressione. In siciliano per me l'espressione più bella per dire ti amo è il siumeciato, il mio respiro, la mia anima.